I rattoppi non bastano, le strade vanno riparate a regola d'arte. Era marzo dello scorso anno, quando dopo polemiche, diffide e denunce, la provincia di Salerno si decise a mettere in sicurezza alcune delle arterie stradali del Vallo di Diano che versavano in condizioni pietose. Neanche un anno e ci risiamo, siamo a metà della stagione invernale, piogge neanche tante, un accenno di nevicata, quindi il sale sul banto stradale, aggiunge il traffico quotidiano e le strade del territorio sono tornate a essere un colabrodo. Sono messe proprio male le più trafficate, lo sanno gli automobilisti che quotidianamente frequentano i tratti Pantano di Teggiano, Silla di Sassano, Trinità di Sala Consilina. Qui siamo sulla strada statale 19, a Sala Consilina e la situazione non è diversa. Sono solo alcuni esempi, nonché il resto delle strade del territorio sia una passeggiata rilassante. A neanche un anno dagli ultimi rattoppi gli automobilisti ricominciano a dover fare i conti con le precarie condizioni di un manto stradale di nuovo irriconoscibile. Le strade gruviera sono un pericolo perché le buche che stanno per diventare voraggini appaiono in punti cruciali e costringono a slalom pericolosi. Si rischia la vita o, se si è fortunati, solo la macchina. La causa di tutto è la penuria di interventi di manutenzione. Le piogge e il traffico quotidiano mettono a dura prova le condizioni dell'asfalto, ma sono cause di usura fisiologiche. Ecco perché c'è bisogno di manutenzione frequente. La situazione di pericolo in cui versano le principali arterie del Vallo di Diano è sotto agli occhi di tutti ed è messa continuamente a rischio la vita dei cittadini. Intanto sono stati annunciati finanziamenti alla provincia. È stato dato infatti il via libera al decreto di riparto di 3 miliardi 750 milioni di euro in 15 anni, destinati alle province e delle regioni a statuto ordinario, perché elaborino piani di sicurezza per la manutenzione delle strade, oltre che delle scuole, e per la provincia di Salerno il finanziamento ammonta a oltre 4 milioni di euro. I comuni al di sotto dei 20 mila abitanti poi, quindi tutti quelli del territorio potranno beneficiare di fondi da utilizzare, tra le altre cose, proprio per la messa in sicurezza delle strade comunali. Chissà se tutti questi soldi verranno usati con intelligenza e per interventi mirati.